Che cosa sono le scie chimiche? Ormai lo sanno tutti. Quello che invece non tutti sanno è cosa sono le scie chimiche di seconda generazione. Un giorno, mentre facevo ginnastica in soggiorno, fuori dalla finestra noto qualcosa di molto strano. Mai visto niente del genere. Guarda un po', penso. Una volta il cielo era sempre pulito e limpido. Adesso invece è pieno di questi strani agglomerati gassosi. Quindi secondo te è un caso se oggi ci sono così tante malattie? Ma non so, tipo il diabete, gli infarti, il mal di testa. Sì mamma, lo so anch'io che ci dicono che l'aspettativa di vita sta aumentando, ma tutto dipende da come si leggono i dati. Così fa tutto un altro effetto, vero? Per fortuna non sono uno che si fa prendere dal panico. Così ho deciso di approfondire l'argomento per mezzo di un sofisticato strumento informatico. Ed ecco qua cosa ho trovato. Una coincidenza? Forse. O forse no. Forse sono proprio queste specie di camini che producono le scie chimiche di seconda generazione che stanno invadendo i cieli di tutto il mondo. Perché la scienza non ne parla? Di che cosa sono composte? Contengono forse olio di palma? Ma soprattutto a cosa servono? Io credo che questi agglomerati gassosi, all'apparenza così innocui, abbiano in realtà una funzione ben precisa. Nascondere velivoli segreti. È solo un'ipotesi, è vero. Ma un'ipotesi che nessuno ha ancora smentito. Queste gigantesche macchine volanti ci passano sopra la testa in continuazione, giorno e notte. È lì che vivono i potenti di tutto il mondo. Sto parlando di gente come Bill Gates, Mario Draghi o McDonald. Mentre la gente onesta lavora tutto il giorno, questi signori attraversano il cielo nei loro lussuosi velivoli e fanno festa sopra le nostre teste. Se si fa bene attenzione, le si può anche sentire. Grazie a tutti.